CONSIP e ARIC, ruolo e mission delle centrali di acquisto ricadute sul territorio e casi di applicazione per il PNRR. CONSIP è una società per azioni che ha come unico azionista il Ministero dell'Economia e delle Finanze. ARIC, già agenzia regionale per l'informatica e la telematica, concorre non solo al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale, ma svolge anche le funzioni di centrale di committenza, di stazione unica appaltante e di soggetto aggregatore in favore della Regione Abruzzo e di altri soggetti pubblici aventi sede nel territorio regionale. Il seminario di altissimo profilo si è svolto nella sala Orofino di Confindustria Chieti Pescara. Il presidente Silvano Pagliuca. Il tema del PNRR è un tema sentitissimo e quindi vogliamo assolutamente fare sistema tra le centrali di acquisto come CONSIP e come anche l'ARIC per capire meglio anche quali sono le procedure a cui attenersi, soprattutto nel momento in cui la domanda è superiore all'offerta, quindi abbiamo necessità assolutamente di fare squarra proprio per rispettare i tempi previsti al PNRR. Diciamo che ci sono ricadute importanti sotto questo profilo. Le ricadute sono importantissime, faccio un esempio, molto spesso le PMI magari escludono a priori le partecipazioni a gare CONSIP, e questo lo capisco perché CONSIP per ruolo ha necessità di fare gare a livello nazionale, ma è anche vero che con l'abbattimento della soglia del subappalto ci possono essere ricadute, soprattutto per quanto riguarda i territori, impatti importanti e quindi bisogna anche capire però come funzionano questi meccanismi che in alcuni casi sono anche complessi. Cosa devono fare le imprese per avere accesso a questi fondi? Ma intanto semplicemente e oserei dire banalmente attraverso la piattaforma acquisti in rete di CONSIP e anche ovviamente sulla piattaforma dell'ARIC, ma questo evidentemente non basta e quindi oggi vogliamo con questo incontro entrare meglio nei dettagli e anche nelle difficoltà che eventualmente si possono incontrare e ce lo facciamo dire direttamente dai responsabili, in particolare dai contratti CONSIP, l'ingegnere Renato Di Donna e dal direttore generale dell'ARIC. Dopo la pandemia, qual è lo stato di salute dell'economia abruzzese? In Abruzzo abbiamo necessità di mettere in cantiere le grandi opere, le infrastrutture che sono i corridoi TNT, linee ferroviarie all'altezza del 2023 e questo anche per abbattere i costi di logistica che evidentemente impattano poi molto sui costi del prodotto finale.